salve a tutti come promesso eccoci con il nuovo video per incastonare in maniera da coprire quasi totalmente i rivoli da 12 mm allora questo tipo di incastonatura è adatto anche per i rivoli che magari ci arrivano danneggiati diciamo che è nata un po per questo motivo poi in realtà io come in questo momento la sto utilizzando per un rivoli non danneggiato perché ovviamente poi sinceramente mi piace come come lavoro e quindi la utilizzo normalmente magari ecco con un rivoli tipo swarovski che è molto luminoso eccetera magari mi dispiace coprirlo totalmente però anche in quel caso ad esempio al posto di questi cipollotti che sono due per tre utilizzo il bicono da tre della swarovski sempre il risultato ovviamente è stupendo anzi farò adesso il video ma poi ne ne farò anche un paio con il bicono e ve li mostrerò e come vedete io in questo caso ho montato l'orecchino ho montato l'orecchino utilizzando un altro orecchino che che avevo preso su ebay e questi sono orecchini gold filled io solitamente li prendo per utilizzare le monachelle che li prendo all'asta li pago una cifra accessibile e quindi magari smonto la monachella utilizzo solo quella in questo caso mi piaceva anche la parte del pendente che c'era e l'ho utilizzata così quindi questo sarebbe l'orecchino e smonto la parte sottostante e lo utilizzo per le mie creazioni allora e per realizzare questo orecchino e questo tipo di incastonatura ci occorreranno delle 11 0 della tau e delle 11 0 mi yuki oltre a questo ci serviranno semplicemente dei cipollotti 3x2 e nel caso in cui non avesse cipollotti 3x2 potete utilizzare il bicono swarovski da 3 mm perché in realtà il bicono swarovski da 3 mm sono un pochino più corti non non sono effettivamente di 3 mm e perché la parte diciamo dello spessore è di 3 mm la parte della lunghezza è leggermente più corta e quindi vanno benissimo per questo tipo di progetto allora io mi sono leggermente anticipata utilizzate un filo di nylon da 0 20 e un ago da 12 john james in realtà questo è un extra fine della mi yuki ma io mi trovo meglio con con i john james da 12 perché sono più sottili e riesco quindi a passare più volte tra le perline allora infiliamo sul lago 5 rocaille 11 0 della tau alternate a 5 cipollotti da 3 x 2 chiudete a cerchio ripassate tra le perline e uscite da una 11 0 tau mi sarà inceppato il filo allora una volta usciti dalla 11 0 prendiamo sul lago 3 11 0 tau ed entriamo nella 11 0 successiva ripetiamo quindi questo passaggio per tutto il giro per tutto il giro terminato il giro ripassiamo tra le perline e usciamo da una 11 0 tau centrale di uno degli archetti da tre che abbiamo appena fatto che abbiamo appena fatto mettiamo ora sul lago due mi yuki una tau e due mi yuki non ripeterò più 11 0 perché tanto utilizziamo solo 11 0 quindi due mi yuki una tau e due mi yuki ed entriamo nella 11 0 tau centrale dell'archetto da tre successivo ripetiamo quindi questo passaggio per tutto il giro terminato il giro ripassiamo quindi nuovamente tra le perline ed usciamo da una 12 al centro di uno degli archetti appena eseguiti inseriamo nuovamente due mi yuki una tau e due mi yuki ed entriamo nella perlina centrale che è una tau dell'archetto successivo lo ripetiamo anche questa volta per tutto il giro terminato il giro si inizierà a formare la gabbietta per racchiudere i rivoli quindi non rimarranno diciamo spianate le perline ma inizieranno a salire in verticale il secondo giro diciamo da degli archetti da 5 e portiamoci ora ad uscire da una delle to centrali di un archetto e questa volta andiamo a inserire tre to quindi tre to ed entriamo nella perlina centrale quindi nella to che si trova al centro dell'archetto successivo allora a questo punto prima di proseguire per comodità possiamo inserire il riboli a faccia in giù all'interno dell'incastonatura quindi così e proseguiamo inserendo tre to al centro e lo facciamo per tutto il giro terminato il giro e usciamo da una 11.0 tau al centro di uno degli archetti appena inseriti e andiamo praticamente ad inserire una tau ed entriamo in quella centrale dell'archetto successivo in questo modo solo che ho saltato un archetto scusate adesso qui ok ed entriamo qui quindi andiamo a chiudere l'incastonatura e lo ripetiamo per tutto il giro come vedete io amo avere le incastonature chiuse anche sul retro allora anche in questo caso come per la versione da da 14 mm per i rivoli da 14 mm l'incastonatura è molto carina anche utilizzata da questo lato quindi se volete potete anche utilizzare credo le 8.0 si possano utilizzare al posto dei cipollotti quindi utilizzare quindi la parte che sarebbe quella frontale per il retro e far capitare sul davanti quindi se non avete i cipollotti non avete il bicono da 3 mm quelli svaroschi potete magari utilizzarla in questo modo con questa stella che è molto carina e far capitare questa sulla parte frontale può essere anche un'idea ecco quindi adesso andiamo a scusate non è semplice lavorare sempre a favore di camera allora e quindi ripassiamo tra le perline e andiamo a stringere ripassiamo anche in queste cinque appena inserite e andiamo a stringere il tutto l'incastonatura praticamente è terminata quindi abbiamo ripassato e stretto le perline e potete quindi ora utilizzarla come preferite io vi do alcuni spunti per l'utilizzo allora passiamo quindi tra le perline e portiamoci ad uscire da una tou sulla parte diciamo laterale vedete dove si sono formati gli incroci con i due archetti da 5 rocaille e a questo punto potete inserire ad esempio una 11 un bicono da 4 mm e un'altra 11 e o no scusate una 15 un bicono da 4 e un'altra 15 scusate oppure una perla potete anche una 11 una perla da 6 quello che insomma vi piace di più potete a questo punto fare magari voi delle prove ed utilizzarla a vostro gusto io adesso vi faccio vedere come ho fatto l'orecchino che vi ho fatto vedere quindi allora uscendo da da qui ok mettiamo sul lago quindi abbiamo bisogno ancora dei cipollotti da 3x2 quindi mettiamo sul lago una 11 un cipollotto 3x2 una 11 un cipollotto 3x2 e una 11 in questo modo entriamo quindi nella tou che ci troviamo davanti quindi dell'archetto diciamo dell'incrocio successivo ed otteniamo questo quindi lo ripetiamo per tutto il giro quindi una 11 un cipollotto una 11 un cipollotto e una 11 ed entriamo nella tou successiva terminato il giro otterremo questo simpatico modulo questo modulo potete anche utilizzarlo per unendolo insieme per farne un bracciale come nel caso dell'altro che vi ho mostrato sono comunque moduli molto semplici cioè idee veramente molto base scusate dicevo idee molto base però altrettanto carine insomma da utilizzare anche perché se ci fate caso la maggior parte di quello che propongo sono veramente cose molto semplici non sono lavori particolarmente articolati ecco allora all'inizio del video avevo dimenticato di dire che ci serve anche qualche 15 zero per fare i cappietti a questo punto usciamo da una tou che si trova tra i due cipollotti nell'archetto praticamente appena formato quindi usciamo da qui inseriamo sull'ago 7 quindi inseriamo 7 15 zero scusate e allora io in questo caso inserisco direttamente la monachella quindi metto la monachella sul lago e la faccio scorrere giù vedete e no aspettate l'ho messa al contrario l'ho messa al contrario allora ok allora inseriamo quindi la monachella sul lago e rientriamo nella 11 0 dalla quale stavamo uscendo ok stavolta l'ho messa dritta ripassiamo quindi tra le 15 0 almeno un altro paio di volte e poi ripassiamo tra le perline se volete potete potete terminarlo già in questo modo quindi questo è il retro questo è il davanti e l'orecchino sarebbe già pronto soltanto che dato che io volevo aggiungere questa parte pendente e utilizzarlo al posto di una goccia oppure se volete inserire una goccia ripassate quindi nuovamente tra le perline e portatevi uscire da questa tou che si trova al centro di questi due archetti quindi da questa uscendo da qui faremo nuovamente un archetto allora prima vi avevo detto da 7 perchè solitamente le faccio da 7 però mi sono resa conto che sull'altro orecchino l'avevo fatto da 5 quindi io adesso lo farò da 5 ma voi potete farlo sia da 5 che da 7 insomma come preferite l'orecchino è molto piccolo quindi anche da 5 può andare e quindi inseriamo 5 allora aspettate quindi inseriamo 5 15 0 andiamo ad inserire il pendente anzi no in questo caso ci vuole l'orecchino per me quindi farò il pendente in maniera farò il cappietto e poi aggancerò il pendente voi potete se volete mettere la goccia mettere direttamente la goccia poi una una 15 per per tornare indietro e ritornate indietro e fate il cappiettino insomma spaziate un po' con la con la vostra fantasia quindi io adesso rientrerò in questa 11 0 nel verso opposto al quale oppla solo nella 11 volevo entrare aspettate ecco come vedete sono entrata quindi nella 11 andiamo a tirare dopo aver ripassato varie volte tra le perline avrete leggermente un po' più di difficoltà a passarci nuovamente allora ok cerchiamo di sistemare le perline come meglio possiamo e e rilassiamo quindi nuovamente nel nel cappietto appena eseguito e passiamo tra le perline e fermiamo quindi il filo nella lavorazione e possiamo tagliarlo andrò poi quindi ad aggiungere nel mio caso con un anellino il pendente che sto utilizzando e voi potete anche mettere la goccia su un anelli su un chiodino scusate e quindi agganciarla direttamente al cappietto il tutorial è così terminato spero vi piaccia questa semplice idea spero anche che ne realizzerete tanti taggatemi mandatemi le foto o fatemi vedere quelle che saranno le vostre versioni e cosa ne realizzerete io intanto mi metto al lavoro termino al volo questo e preparo il prossimo tutorial quindi ci vediamo tra poco ciao ciao